Con Coach Cominetti è il termine di Pullibertas-Cantuc-Ortona, una bella vittoria 3-1 con un gioco in crescendo da parte dei tuoi ragazzi. Hai detto bene in crescendo perché siamo partiti un po' tesi e loro molto bravi nel servizio, ci hanno fatto faticare molto, noi non siamo stati molto attenti nelle nostre scelte a muro e in difesa, abbiamo raccolto poco e hanno avuto una grande ragione. Però nonostante, anche se dopo a fatica abbiamo macinato se vuoi il nostro gioco, ma non proprio quello che abbiamo espresso nelle ultime settimane, ma fa ben sperare perché la squadra è rimasta attaccata al risultato fino alla fine, è riuscita a recuperare situazioni difficili e questo qua poi dopo la chiusura dell'ultimo set dove abbiamo preso il largo ci ha dato ragione oggi. Oggi i tre punti sono oro perché con questa squadra, da quello che mi dicono, la Libertas ha sempre fatto molta fatica. Grazie Coach.